Una dotazione di 115 milioni di euro a favore degli agricoltori siciliani. Saranno pubblicate domani le graduatorie dei due bandi dell'assessorato regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, scaduti il 31 dicembre 2020 e frutto della rimodulazione dei fondi europei del piano di sviluppo rurale. Il governo musumece, afferma l'assessore regionale all'agricoltura Tony Scilla, ha impresso una forte accelerazione alle procedure di selezione e valutazione. Criteri di selezione semplici, commissioni uniche di valutazione, progetti di spesa non faraonici sono gli ingredienti necessari per la rapidità di attuazione. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo registrato una grande vivacità imprenditoriale nell'agricoltura siciliana e una voglia di investire in qualità, sicurezza, tracciabilità e sostenibilità, ha concluso l'assessore Scilla. Il primo bando riguarda la misura 4.1 del PSR, investimenti aziendali, che può contare su un totale di 80 milioni di euro a disposizione dei cosiddetti agricoltori veri ed autentici. I progetti sono stati selezionati, la graduatoria e provvisoria, tenendo conto, tra gli altri requisiti, del ruolo sociale dell'azienda sul territorio, delle produzioni di qualità certificata e degli investimenti sulle strategie di adattamento al cambiamento climatico. Per quanto riguarda il secondo bando, relativo alla misura 5.2 del PSR, sono messe a disposizione dell'agricoltura siciliana 35 milioni di euro per ripristinare gli agrumeti danneggiati dai virus. In questo caso la graduatoria è definitiva.